Salve a tutti! Oggi parleremo del moltiplicatore di capacità. Che cos'è un moltiplicatore di capacità? E' un circuito elettronico che attraverso il suo funzionamento riesce a simulare, a far apparire agli altri componenti del circuito che stanno a valle come se ci fosse una capacità molto più grande a monde. Quindi quello che fa è prendere una capacità piccola e farla apparire come se fosse molto molto grande. Questa tipologia di circuiti rientra in quella categoria che viene chiamata filtri attivi. Ora, per capire bene qual è la differenza fra filtri attivi e filtri passivi, un esempio di filtro passivo è appunto un condensatore e viene chiamato filtro passivo perché non ha bisogno di energia per funzionare. Mentre un filtro attivo come è questo circuito ha bisogno di energia per funzionare, ovvero in questo caso specifico questo circuito va a dissipare inevitabilmente una certa quantità di energia per far sì che possa funzionare in modo corretto. Il circuito di cui sto parlando è riportato sul foglio sia nella versione NPN, ovvero quando monta un transistor di tipo NPN e sia nella versione PNP. Com'è che funziona questo circuito? Analizziamo il caso NPN, tanto anche il PNP è uguale, è solo specchiato. Abbiamo un circuito dove in ingresso è presente l'alimentazione e in uscita abbiamo un carico. Che cos'è che succede nel circuito? Abbiamo l'emettitore del transistor collegato a un capo del carico, il suo collettore collegato al generatore, mentre alla base troviamo il nodo centrale di questo filtro passa basso, infatti sarebbe un filtro di tipo RC. Quindi, supponendo di avere un generatore di tensione con un ripple in ingresso, quello che succede è che la tensione sul collettore del transistor è variabile. Ma avendo messo qui un filtro passa basso, quello che succede è che al di sopra di una certa frequenza questo filtro si attiva e fa sì che su questo nodo la tensione resti costante. Quindi, se su questo nodo la tensione è costante, abbiamo che anche la corrente che scorre dalla base del transistor al suo emettitore è costante. E se la corrente che scorre è costante, vuol dire che anche la corrente che scorre fra il suo collettore ed emettitore deve essere costante, perché è proporzionale al guadagno del transistor. E quindi, arrivati a questo punto, si comprende che se il transistor consentirà il passaggio solo di una certa corrente, abbiamo che anche se in ingresso c'è un ripple di tensione, lui farà passare sempre la stessa corrente costante. Quindi, andrà ad cambiare la sua tensione VCE in funzione dell'aumento o della diminuzione della tensione di ingresso, in modo che sul carico arrivi sempre la stessa corrente e quindi il carico vedrà come se la tensione è rimasta costante. Ovviamente, però, per far questo, come abbiamo detto, lui va a cambiare la tensione ai suoi capi, quindi fra collettore ed emettitore. Ed è proprio per questo che si chiama filtro attivo, ovvero agisce in modo attivo, per far vedere al carico sempre la stessa tensione. Però, così facendo, è anche dissipativo, perché al passaggio di corrente costante lui va ad aumentare o diminuire questa tensione e quindi va a dissipare di più o a dissipare di meno, perché ovviamente per fare questa cosa qui lui va a sprecare, va a gettare via un sacco di energia. In sostanza, la capacità che questo circuito andrà a simulare è pari a questa formula, ovvero al valore della capacità C1 moltiplicato per uno più beta, dove beta è il guadagno in corrente del transistor che stiamo utilizzando. Medesima cosa anche per quanto riguarda il circuito specchiato dove è montato il PNP. Andiamo a vedere adesso quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo circuito. Come vantaggio abbiamo che in questa configurazione la caduta di tensione causata dal transistor è molto bassa, ovvero abbiamo che a transitorio finito, nel caso in cui la nostra sorgente non sia presente un ripple, quindi in una situazione stazionaria, abbiamo che il carico vedrà quasi tutta la tensione di ingresso, tranne una caduta dovuta principalmente alla tensione di saturazione del transistor. Mentre, come svantaggio, abbiamo che la corrente che può arrivare al carico non può essere troppo elevata, infatti banalmente guardando il circuito abbiamo che la corrente di attivazione del transistor sarà proprio quella che passa per la resistenza R1, quindi che passa fra base ed emettitore e che quindi poi tramite il guadagno del transistor fa passare la corrente fra il collettore e l'emettitore. Però questa resistenza ha un valore abbastanza elevato proprio per far sì che il filtro RC sia il più efficace possibile, quindi se R1 ha un valore molto elevato abbiamo che la corrente che passa per la base emettitore è abbastanza piccola, quindi di per sé viene che la corrente che potrà assorbire il carico al massimo può rimanere nell'ordine di un ampere, inferiore a un ampere, con questo tipo di circuito, questo tipo di configurazione. Per eliminare questo svantaggio molte volte si fa il ricorso a quest'altro circuito, ovvero dove abbiamo una configurazione del transistor di tipo Darlington. Ovviamente qui ho riportato solo il caso dell'NPN, però va da sé che il caso PNP è specchiato, quindi è perfettamente uguale. E in questo caso cos'è che abbiamo? Beh, andiamo a risolvere il problema appena detto, in quanto aggiungendo questa configurazione abbiamo che la corrente che poi esce dall'emettitore del primo transistor viene ulteriormente amplificata dal secondo transistor e quindi questa configurazione consente di avere un carico che assorbe molta corrente. Ed inoltre questa configurazione Darlington consente di simulare una capacità ulteriormente più grande. Infatti supponendo di utilizzare due transistor uguali, abbiamo che la capacità simulata sarà sempre uguale a C1, però questa volta per uno più beta, che è il guadagno di corrente, tutto al quadrato. Perché? Perché ovviamente abbiamo due transistor in serie, quindi il guadagno del primo viene ulteriormente moltiplicato per il guadagno del secondo. Quindi la capacità che andiamo a simulare è davvero molto molto più grande rispetto alla prima tipologia. Come vantaggio di questa configurazione abbiamo quindi che abbiamo aumentato notevolmente la corrente che arriva al carico. Come svantaggio invece abbiamo un'alta caduta di tensione ai capi dei transistor. Infatti rifacendo l'esempio di prima, anche se noi avessimo una sorgente di tensione a tensione costante, la tensione massima che il carico può vedere sarebbe quella della tensione d'ingresso meno le due tensioni VBE dei due transistor. Perché sappiamo che la tensione massima che può essere vista da questa resistenza è la tensione d'ingresso meno 1,4 Volt. Molto bene! Quindi questa è tutta la parte teorica che sta dietro il moltiplicatore di capacità. adesso andrò a mettere questi circuiti su LTSPICE e andremo a vedere in pratica come si comportano. ho riportato il circuito su SPICE nel caso in cui avessimo un semplice caso di rettificatore con carico applicato. Quindi ho messo qui un generatore di tensione sinusoidale a 50 Hz, il ponte a diodi, il condensatore di rettifica e il suo carico. Invece poi sono andato a mettere anche gli altri due circuiti studiati appunto del moltiplicatore di capacità, ovvero quello semplice e quello con la configurazione Darlington. Andiamo a simulare e vediamo cosa succede. Partiamo dal caso semplice, ovvero dove c'è il semplice circuito di rettificazione. Abbiamo che a regime la nostra tensione, quella che arriva sul carico, ha questo ripple. quindi un ripple abbastanza sostenuto di circa 600 mV. Quindi noi quello che adesso vogliamo fare è andare a diminuire il ripple che arriva sul carico. Quindi la prima cosa che facciamo è la soluzione con il moltiplicatore di capacità. Andiamo a vedere qui cosa succede. In ingresso abbiamo sempre la stessa tensione con lo stesso ripple, come si può vedere. Mentre in uscita abbiamo questa tensione qui, ovvero una tensione molto più pulita, come si può vedere in pratica non c'è ripple, perché la variazione si ha alla terza cifra decimale, quindi un ripple di 1 mV. Però come si può vedere, essendo che il carico assorbe molto, abbiamo che la tensione è calata di parecchio. perché la tensione sul transistor, che si instaura sul transistor, è abbastanza elevata, impone una caduta abbastanza importante. Come si può vedere, la sua tensione varia nel tempo, proprio per quel discorso che facevamo, che è un filtro attivo, quindi varia in controfase con il ripple di ingresso, mantenendo la tensione di uscita costante. Però la abbassa troppo, perché la corrente che passa per questa resistenza non è sufficiente a far passare tutta la corrente di cui il carico ha bisogno. Ed è per questo motivo che andiamo ad utilizzare il terzo circuito. Quindi abbiamo sempre lo stesso ripple in ingresso, come si può vedere. Però, questa volta in uscita, abbiamo una tensione sempre costante con un ripple di 1 mV, ma molto più alta. Ovvero, siamo saliti a circa 11,63 V. Ovviamente è sempre più bassa della tensione di ingresso, però questa volta non è dovuto al fatto che questa configurazione non riesce a dare tutta la corrente che il carico vuole. Ma bensì è dovuto al difetto, allo svantaggio che abbiamo analizzato prima. Infatti, se andiamo a vedere il valore medio di questa tensione, che è 11,6, e il valore medio di questa, che è 13,039, quindi diciamo 13, abbiamo che c'è una caduta di 1,4 V. E come vi dicevo, è proprio pari alla somma delle due cadute dei diodi base emettitore di questi due transistor, quindi 0,7 più 0,7 fa 1,4 V. Quindi questo è il comportamento di questi tre circuiti qui. E come si può vedere, appunto, dipende dall'applicazione che noi vogliamo o stiamo realizzando. Quindi, in questo caso funzionano tutti e due, ma dipende se il carico assorbe più corrente o assorbe meno corrente. E soprattutto, dobbiamo sempre tenere in considerazione il fatto che questa configurazione va a imporre una caduta teorica fissa che dipende, appunto, come detto, dalle tensioni base emettitore di questi due transistor. Quindi, come abbiamo visto su Spice, il circuito funziona e funziona anche molto bene, in quanto il ripple, il rumore sul carico viene totalmente annullato. E questo tipo di circuito ci risulterà molto utile, soprattutto il giorno in cui decidessimo di voler intraprendere qualche progetto di tipo amplificatore audio, in quanto l'applicazione di questo circuito, il 90% delle volte, è proprio in questo tipo di dispositivi, proprio perché pulisce davvero bene qualsiasi forma di rumore in ingresso all'amplificatore. Molto bene, per questo video è tutto, alla prossima! Grazie! Grazie!